salotto fill the nighties schicchi ciao schicchi miau ben ritrovati a questa nuova puntata del salotto fill the nighties e tutte le puntate sono uguali perchè iniziamo sempre così 15 minuti in cui si parla di? di musica e non solo perchè ci sono anche le rubriche ma prima di parlare di musica prima di parlare del video contest fill the nighties perchè quest'oggi abbiamo gli 11 selezionati che vi parteciperanno mandiamola pubblicità salotto fill the nighties con robin la ville in maoli la tua musica da youtube in radio e anti tv con lo spazio music free tutto gratuito perchè la musica è di tutti salotto fill the nighties salotto io e te salotto mi fai ridere salotto stai con me il salotto fill the nighties con robin la villa e il mauri siamo qui ritorniamo a parlare di musica dopo la sigla bella cartone animata animata molto molto animata salutiamo anche la nostra Lisette con cui ci metteremo in collegamento tra poco vi ricordiamo anche fill the nighties.com il nostro sito internet la pagina facebook fill the nighties andiamo con la presentazione degli 11 selezionati al video contest fill the nighties ammi la musica vuoi farti notare a costo zero? allora il video contest fill the nighties fa per te che cosa si vince? promozione annuale del vostro brano su fill the nighties stampa del cd fisico inserimento su oltre 200 digital store intervista speciale con promozione sul sito internet i vari social network e servizio fotografico inserimento nella compilation open door agli artisti migliori selezionati da robin la villa maggiori info sul sito fill the nighties.com videocontest fill the nighties la musica gratis Andrea Rana Angie Toad Domenico Rinaldi Federica Cabras Milenia Filippo Mary Sultana Moonlight in the desert Nicoletta Pagliarini Raffaele Paribello Pietro Panetta Noi che veniamo da molto lontano e non torniamo Serena Celeste Cosa scriverò Adesso mi devi spiegare perché tutti i candidati li abbiamo indicati con il dito Così 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 È più senso Vota Vota quello Però le votazioni non iniziano da oggi Oggi c'è stata solo la presentazione Ma ci saranno dalle puntate che verranno Sì Le prossime praticamente Avvenire Come sarà la votazione Mauri? Verrà tramite YouTube Quindi i commenti I commenti se non ci saranno Al video In questo caso se fosse oggi la votazione potreste votare tutti e gli undici con il nome e cognome io voto Io voto Come voto E ci sarà Miss Lella Ponce giusto? Si Che estrarrà Estrerà a caso ogni puntata Due coppie Due coppie quindi due nomi a caso E questi due nomi saranno presentati in video Sfida E saranno in sfida la battle molto semplice voi che siete stati selezionati che cosa dovete fare dovete farvi votare semplicissimo con i commenti al video di youtube se ci state guardando dalla tv a casa venite sul nostro canale oppure potete inviare il vostro voto a redazione at fieldenitis.com non oggi per non confondere nessuno il regolamento è ancora presente sul sito fieldenitis.com andate a rivedervelo è molto semplice battaglia sfida chi passa si aggiudica direttamente il posto in finale ma adesso mandiamo lo spazio music free free lo spazio music free è offerto in collaborazione con sound management corporation music free dai voci alla tua musica musica penso e negli occhi mi ricordo il tocco delle mani tue su di me musica come un faro mi accendi se ti guardo mi sorprendi nel silenzio di un istante sono tua salotto fieldenitis la vetrina della musica emergente fai vedere e sentire il tuo vero talento promuovi la tua musica gratuitamente per farti vedere per farti conoscere meglio per regalare a chi ti guarda un po' di te e dopo esserti fatto notare qui in video la tua musica sarà programmata su tutto il nostro circuito radiofonico italiano fieldenitis è un marchio di garanzia tutto gratuito per partecipare devi essere iscritto al nostro canale youtube robilaville e se ci vuoi contattare manda una mail a redazione chiocciola fieldenitis.com e dal music free passiamo al jump in con christian e luisella dal bunker di cosa ci parleranno non lo so vediamo al servizio schicchi di ciao e schicchi di miau benvenuti nel bunker per la rubrica jump in condotta da christian e luisella questa settimana facciamo un salto in australia melbourne dove l'idea di jufflechutes un'impresa locale è quella di consegnare in un modo davvero bizzarro i panini di loro produzione abbiamo la ripresa di una riproduzione della produzione il meccanismo è abbastanza semplice tramite internet i gestori annunciano da quale palazzo lavoreranno e raccolgono tramite il loro sito gli ordini dei clienti lo stesso sito informa i clienti della cosa curiosa di questo nuovo tipo di servizio un servizio così fantasioso da far venire i brividi ed ecco una foto di un brivido ripreso da un'angolazione mai vista continui lei ebbene sì avete capito bene il luogo di lavoro degli ideatori di questa innovativa impresa è itinerante e si sposta di palazzo in palazzo infatti per lo più jufflechutes lavora dagli appartamenti di amici o conoscenti che devono essere però idonei come spazi e devono trovarsi ad un'altezza compresa tra il quarto e il sesto piano ecco a voi uno scatto del piano la ragione dell'altezza del luogo è dovuta al fatto che i dipendenti dell'azienda dopo aver preparato i panini li consegnano gettandoli dal palazzo legati ad un piccolo paracadute abbiamo un video della caduta di un panino col paracadute l'altra cosa curiosa è la tempestività della consegna infatti al momento dell'ordine sul sito i gestori di jufflechutes danno già l'orario della consegna la quale è sempre rispettata per oggi dal bunker è tutto arrivederci alla prossima da cristian e luisella schicchi di ciao e schicchi di miau sono curioso perché adesso arriva matteo montesi con il messaggio un messaggio di pace il messaggio di matteo montesi il meraviglioso fiume musone qui a castelfidardo schicchi di ciao schicchi di miau da me matteo montesi dico come al solito un messaggio di fraternità universale cerchiamo da voler bene l'ecosistema che ci dona la vita questo pianeta era un paradiso terrestre e l'uomo l'ha trasformato ad una discarica piena di inquinamento sta porra madre terra e la terra non ne pole più i quattro elementi non ne pole più dell'uomo ingrato eh? allora apriamoci da adesso in poi andare verso la strada vera, giusta la via che ci porta la vita vera e cioè amarci gli uni gli altri come Dio ci ha amati amamosci gli uni gli altri vuolemese bene rispettiamo la natura l'ecosistema che ci fa vive eh? c'è ospita è ora che ci diamo una svegliata una volta per tutti se no dopo ci accorgemo quando è troppo tardi uomo avvisato mezzo salvato non è solo però uomo anche la donna uomo per D uomo e donna uomo avvisato mezzo salvato schicchi di ciao schicchi di miau 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 chiedendo no perché lisette indossata così no io penso che il natale tutto l'anno è anche tu robbie mi ha insegnato che il natale l'allegria è per tutto l'anno così sono invita e indossata così non come non lo so mamma natale qui da tel aviv allora ragazzi oggi vi voglio presentare una cantante una ragazza bravissima che è anche un'amica mauri ho tanti amici è vero allora si chiama lei corri weissman e ha una canzone che si chiama shake your body allora ragazzi shake your body si chiama lei corri weissman e fa la musica densa allora vi invito a tutti voi di andare su youtube cercare la sua musica la musica di corri weissman che è bravissima e allora balliamo balliamo tutti insieme ragazzi schicchiri ciao schicchiri miau ciao 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 Grazie a tutti E anche oggi abbiamo finito Vi ricordiamo i nostri contatti dal sito internet www.feelthenightis.com La pagina Facebook Feelthenightis Ok, ce l'abbiamo fatta È la decima volta che registriamo questo Meno male che il regista non ha mandato le cose precedenti Marta che mi distrai, fa le facce Salutiamo tutte le persone che ci seguono con tanto affetto Da YouTube alla TV ovviamente Ma anche chi ci segue in radio Perché la promozione fa YouTube, radio e TV Che vuoi di più? Facciamo un brindisi agli 11 artisti Che dalle prossime puntate saranno in competizione tra loro E ne vincerà uno solo Io avevo detto un alcolico ma va bene così Vi salutiamo Schicri ciao Schicri miau